3.159 le vittime sulle strade italiane nel corso del 2022, 485 le persone uccise mentre camminavano o attraversavano la strada. Secondo i dati Istat riferiti allo scorso anno, ogni milione di abitanti si contano 46 morti per incidente stradale. L'omicidio stradale rientra fra questi numeri ed è stato introdotto nel marzo del 2016 con la legge 41. È stato creato un nuovo articolo del codice penale, il 589 bis, la cui principale novità è la previsione di una pena molto severa da 8 a 12 anni di reclusione per chi causa un omicidio al volante per colpa, trovandosi in stato di grave ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Le prime cause, le cause maggiori di incidentalità, la prima in assoluto sicuramente è la distrazione. La distrazione, la distrazione al telefono, la distrazione attiva, la distrazione passiva, ma anche la distanza di sicurezza che non viene rispettata e purtroppo anche ci sono i casi in cui c'è guida sotto sostanze alcoliche o stupefacenti. Di questo, ma soprattutto degli aspetti psicologici nella gestione dell'omicidio stradale, se ne è parlato a Montecatini in occasione di un convegno organizzato e promosso dal COISP, il sindacato di polizia, sezione della provincia di Pistoia. Quello che si vuole far comprendere oggi e su cui incentrare l'attenzione è l'aspetto psicologico dell'operatore di polizia a seguito di un rilevamento di un incidente stradale con decessi. Ci sono persone che in quel momento hanno perso la vita e tu devi essere lì a fare il tuo mestiere, il tuo lavoro, rilevare l'incidente con una persona deceduta. Ecco, questo sicuramente ce lo ricordiamo e ce lo ricorderemo per sempre. Anche l'operatore di polizia dopo quei momenti ha bisogno di un aiuto.